Salvatore Russo è stato ucciso con 38 coltellate, una delle quali, quella letale, ha raggiunto il precordio, cioè la parte del torace anteriore allo sterno in corrispondenza del cuore. E' stato questo il risponso arrivato dalle 5 ore di autopsia effettuata all'interno dell'obitorio dell'ospedale di Pescara dal medico legale incaricato dalla procura, il dottor Cristian Dovidio, alla presenza del consulente di parte nominato dalla famiglia della vittima, il dottor furio patete. Come già emerso nel corso della prima ricognizione cadaverica avvenuta subito dopo l'omicidio di martedì scorso, la furia di Roberto Mucciante si è concentrata sul dorso, sul torace e sull'addome della vittima e molti dei fendenti sferrati con un coltello da cucina che è stato recuperato dai carabinieri sono andati in profondità. Ancora tutte da chiarire con precisione le circostanze del delitto avvenuto comunque nell'ambito di cattivi rapporti di vicinato condominiale. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori la lite sarebbe iniziata lungo le scale per poi proseguire negli scantinati del palazzo all'angolo tra via Pian delle Mele e via del circuito, scantinati dove ci sono i garage e dove pare che il russo stesse sistemando delle zanzariere del suo appartamento. Roberto Mucciante è incensurato ed alcuni racconti dei vicini di casa negli ultimi tempi pare apparisse depresso, forse per la mancanza di un'occupazione. Il 51enne che viveva nell'appartamento della palazzina con la madre è accusato di omicidio aggravato. Subito dopo il delitto si è costituito chiamando i carabinieri e raccontando loro quanto accaduto. Ora si trova recluso nel carcere pescarese di San Donato. Domani mattina attorno alle 10 in procura Pescara ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del tribunale di Pescara Antonella di Carlo e al PM titolare dell'inchiesta Valentina D'Agostino. Mucciante è difeso dai legali Gianluigi Amoroso e Clara Di Sipio. La famiglia russo è invece rappresentata dall'avvocato Andrea Cocchini.